Nome? Nicola. Nome? Raffaele. Cognome? Di fino. Cognome? Di donna. Sesso? Molto spesso. Sesso? Maschio. Tre aggettivi per descrivere lui? Bah, diciamo, simpatico. No, e basta. Tre aggettivi per descrivere lui? Vabbè, non ci sono aggettivi. La sua data di compleanno? La mia o la sua? La tua? 19 aprile. Un consiglio? Beh, meglio che ti tagli quei capelli. Un consiglio? Fatti la barra. Tra i due, chi è il più invidioso? Secondo me io. Sei invidioso? No, io no. Il suo peggior difetto? Mangia troppo. Il suo peggior difetto? Studi assai. Tra i due, chi è il più intelligente? Io, sicuramente. Tra i due, chi è il più intelligente? Io. Domanda di cultura generale? Mille diviso tre? Mille diviso tre? 999,9. Mille diviso tre? 33,33. Chi ha scritto il 5 maggio? Il 5 maggio? Alessandro Manzù. Chi ha scritto la Divina Commedia? Dante Alighieri. La prima guerra mondiale? 1915,18. La terza guerra mondiale? La terza? 2011. La data di nascita di Mussolini? Mussolini? 45. Ma voi siete amici o qualcosa in più? No, diciamo che ci abbiamo già provato. Siete amici o qualcosa in più? Siamo bisessuali. Una dimostrazione di affetto? Il vostro negozio preferito? Beh, sinceramente, visto che ce l'abbiamo di fronte, rompi di passione. Il tuo negozio preferito? Eh, ce ne sono tanti. Un saluto particolare a Barry Blue? Eh, showry blue. Un saluto particolare a Barry Blue? Ciao a tutti, votatemi. Per fare cosa? Ah, non lo so, per vincere il concorso, diciamo. Ciao a tutti.